Ora ti voglio spiegare come i miei pazienti hanno evitato l'operazione all'alluce valgo facendosi trattare con un metodo, il metodo Connettis. Da ormai 15 anni uso e insegno ai pazienti una tecnica così efficace da eliminare il dolore e ridurre in alcuni casi del tutto la deformazione che si crea nel valgismo dell'alluce. Si tratta di una stimolazione connettivale dei tessuti intorno all'articolazione dell'alluce e sulla pianta del piede, tale che riesce a modificare la causa della deformazione stessa, invece di intervenire solo sul sintomo rischiando di farlo ripresentare dopo alcuni anni, come avviene per tantissimi pazienti operati che purtroppo devono ricominciare da capo. È un metodo davvero semplice che può imparare chiunque e farlo su se stessi o su un'altra persona. Sto parlando del mio personale metodo Connettis. È sufficiente applicarlo pochi minuti, due o tre volte alla settimana e già dalla prima applicazione si possono apprezzare i primi risultati. Naturalmente questi ultimi dipendono molto da alcuni fattori come ad esempio da quanto tempo è presente la deformazione, se il sovrappeso è molto, se l'età è avanzata. Comunque sia, i risultati arrivano per tutti, purché sia presente il sintomo importantissimo del dolore. Strano, vero? Eppure il tanto temuto dolore, in questo caso, ci serve per la guarigione perché grazie ad esso il nostro cervello sarà in grado di trasformare l'infiammazione cronica in un'infiammazione acuta che è in grado di guarire. Non ti resta che provare e verificare su te stesso questo rimedio naturale e prevenire l'intervento alla luce valga. Sono sicuro che potrai apprezzare sin da subito la differenza nella tua diambulazione. Giunto a questo punto, qualora non lo avessi già fatto, ti invito a scoprire il metodo Connettis per eliminare definitivamente il problema alla luce valga. Guarda il video di presentazione del sistema nella parte alta di questo sito o in fondo o nella descrizione presente su YouTube sotto questo video. Ti auguro il meglio. Ciao da Antonio Sacchiero